Gli applausi e gli abbracci sono per tutta la squadra alla fine, dopo 30 anni la Fiorentina passa sul campo di Genoa, lo fa con questo gol fantastico sul lancio di Gonzalo Rodriguez, praticamente un quarterback che mette Pasquale davanti a Frey, pallonetto vincente, è rete dell'1-0, il risultato non cambia più, sentite il commento di Guerino. Abbiamo dominato la partita, abbiamo creato non solo un'infinità di palle e gol, abbiamo vinto solo 1-0, però dobbiamo essere orgogliosi di come questa squadra viene a giocare in trasferta, credo che veramente dobbiamo essere orgogliosi. Quanto è bello vedere la Fiorentina che produce così tanto? Io sono contento per i tifosi.